Amici del software libero open source benvenuti o bentornati in questa 84esima puntata del podcast di marcos box con il riassunto delle principali notizie dell'ultima settimana che poi in questa puntata siamo stati un po lunghi perché ci sono state poche notizie da postare vabbè ma questo un altro discorso apriamo questa puntata con un articolo di andrea uno dei lettori di marcos box che mi ha contattato qualche settimana fa e si offerto volontario per scrivere un articolo su sine guerra che è un software di montaggio video di video editing e compositing video non lineare e basato su codice libero quindi è tutto software libero ed è compatibile con i sistemi gnome linux il software è un po bistrattato e andrea in questo articolo ci fa una disamina della sua storia ci gusta le caratteristiche principali di questo software e ci parla anche dei suoi punti deboli andategli a dare una lettura se siete interessati a questo tipo di software e ancora un ringraziamento ad andrea per questo suo articolo questa settimana è stata una settimana dedicata ai rilasci delle distribuzioni gnome linux ad aprire le danze questa settimana c'è stato canonical con il rilascio di ubuntu 20.10 nome in codice grovi gorilla e questa nuova release semestrale di ubuntu che nella sua edizione principale appunto quella con ubuntu offre l'arrivo di gnome 3.38 l'ultima versione stabile del desktop environment di casa gnome l'esperienza desktop ovviamente rimane quella personalizzata dal tema di ubuntu con una serie di estensioni per gnome shell che rende il tutto più usabile per gli utenti per gli utenti desktop io lo sto provando sono estremamente soddisfatto da questa distribuzione e vi consiglio vi consiglio di provarla fra le novità di questa nuova versione di ubuntu troviamo una nuova versione di ubiquity di starter di ubuntu che adesso offre l'integrazione con microsoft active directory per gli utenti aziendali la presenza di open zfs come opzione per le opzioni di partizionamento del disco in fase di installazione ovviamente l'aggiornamento del kernel linux questo che giunge alla versione 5.8 mesa 20.2 libro office firefox e tutto il resto quindi tutti gli applicativi vengono aggiornati libero office con la versione 7 introduce anche un nuovo set di icone come io libero office su ubuntu introduce un nuovo set di icone che rendono libero office integrato con le icone di sistema quindi con un tema yahoo e poi ci sono qualche miglioria quella anche interessante e degna di nota di questo rilascio è il supporto ufficiale al raspberry p4 con una iso dedicata ovviamente si sono aggiornate anche le varie firewalls ufficiali di ubuntu con aggiornamenti principalmente dei desktop environment degna di nota è la presenza della prima release di ubuntu studio basata su kde sapete bene ve ne avevo parlato già in passato ubuntu studio ha deciso di migrare a kde abbandonando xfse questa è la prima release semestrale ad adottarlo a distanza di 24 ore dal rilascio di ubuntu 20.10 torna ad aggiornarsi anche una delle sue derivate non ufficiali più apprezzate degli ultimi anni sto parlando di pop os che giunge così alla versione 20.10 per chi non lo sapesse pop os è una distribuzione realizzata da system 76 che è un'azienda statunitense con sede a denver in colorado specializzata nella vendita di computer di tipo notebook desktop e anche server equipaggiati con sistemi operativi tipo linux la particolarità di questa distribuzione è di essere basata su ubuntu segue i rilasci sia semestrali che lts di casa canonical quindi ad ogni rilascio di ubuntu sia lts che stabile c'è un conto rilascio di pop os utilizza gnome come desktop environment però offre una serie di personalizzazioni che la rendo diversa da ubuntu non c'è il launcher laterale ma ha comunque una serie di estensioni sviluppate in casa per migliorare il tiling della gestione delle finestre ha delle ottimizzazioni per quando riguarda la computer con schede grafiche ibride e miglior supporto al multi monitor e qualche altra cosina quella che va a modificare altra poi grande cosa che la differenza di ubuntu è la presenza del flat park come formato predefinito a differenza degli snap di ubuntu è una distribuzione che mi piace l'ho apprezzata l'apprezzo tuttora offre questa serie di chicche che non sono niente male offre anche diciamo c'è un tema che tutto sommato personalizzato ma a carattere a carisma e fateci un salto se volete provare questa distribuzione fate provate la è davvero è davvero interessante fra l'altro viene rilasciata in due iso differenti una se avete un sistema intero md l'altra dedicata ai computer equipaggiati con schede nvidia quindi avete già tutto ottimizzato e configurato per le schede nvidia sempre resta in tema canonica in tema ubuntu è partito il piano di sviluppo della prossima versione di ubuntu la prossima versione semestrale quindi ubuntu 21.04 che arriverà il 22 aprile del 2021 per l'occasione è stato anche annunciato il nome in codice e ubuntu 21.04 si chiamerà irsute ipo non lo fate ripetere più perché sono troppe re di mezzo il ciclo di sviluppo prevederà le classiche tre fasi con attorno al 25 di febbraio se tutto andrà bene il freeze delle funzionalità attorno al primo aprile il rilascio della versione beta e poi infine il 22 aprile il rilascio della versione stabile dato software questa nuova versione dovrebbe vedere l'arrivo di gnome 40 e dei kernel linux 5.11 dispiace che anche a questo giro non sia il nome in codice di questa nuova versione non sia stato dato da mark il patron di ubuntu mark short world ma è stato pubblicato sulla mailing list di ubuntu quindi dispiace dispiace che mark si sia continui a essere lontano dalla community e quant'altro vabbè comunque cose che soltanto i nostalgici capiranno restiamo sempre a parlare di distribuzioni linux e lo facciamo con l'arrivo di fedora 33 che è in perfetto orario devo dire il team di fedora ha rilasciato questa nuova versione di fedora che si concentra principalmente sull'arrivo della nuova versione di gnome 3.38 ovviamente kernel linux 5.8 rpm 4.16 mesa 20.2 e aggiornamenti delle tutte quante librerie l'altra particolarità comunque che caratterizza il rilascio di fedora di fedora 33 e l'arrivo di btrfs come fa il system predefinito nell'edizione workstation bene avevo già parlato in passato di di questa scelta andatevi a recuperare le vecchie puntate i vecchi articoli al riguardo dategli una possibilità è una delle distro più amate dai puristi di di gnome e si effettivamente fa sempre la sua porca figura quando esistere perché risulta sempre molto reattiva scattante e pulita perché l'esperienza gnome quella classica quella quella di default e offre un ambiente desktop molto pulito essenziale non per tutti ma carino fateci un pensierino provate o ma ci avete fatto caso che ogni volta che provo qualche distribuzione che viene rilasciata qualche distribuzione dico provate la provate la provate io vi sto portando sulla cattiva strada me ne rendo conto sempre più vi sto facendo diventare come me il tizio che si mette cambia distribuzione praticamente come cambia le mutande cioè devo guarire prima o poi da questa cosa però è il bello di linux perché ogni distribuzione la sua peculiarità e se non si prova non si può apprezzare le tante sfumature del dei tanti delle tante distro comunque passiamo alla prossima notizia su su la prossima notizia è collegata al mondo di canonical una delle principali critiche mosse dagli utenti gnome linux al formato di pacchetti snap riguarda la lentezza in particomodo nella lentezza al primo avvio delle applicazioni installate nel formato snap tutto questo però sta per cambiare grazie all'utilizzo di un nuovo algoritmo di compressione che vedremo che che canonica applicherà in futuro per impostazioni predividi dagli snap impacchettati vengono impacchettati con un file system in sola lettura compressi mediante l'algoritmo x z e questo si traduce in un alto livello di compressione ma al contempo richiede più potenza nell'elaborazione per di comprimere espandere il file system prima di poter utilizzare l'applicazione la conseguenza specie negli utenti desktop è quel fastidiotissimo problema che riguarda l'avvio dell'applicazione che risulta molto lento a volte tremendamente lento per alcune applicazioni poi vabbè i successivi avvili dell'applicazione sono più veloci in genere c'è poco o quasi nulla differenza rispetto alle applicazioni installate mediante i formati di pacchetti tradizionali perché una volta è stato il file system questo resta memorizzato nella case tuttavia gli sviluppatori di ubuntu hanno voluto continuare a lavorare su questo sul formato stamp per renderlo più appetibile e con più 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 veloce nell'esecuzione e hanno annunciato che verrà utilizzato un nuovo algoritmo per la compressione del file system delle applicazioni in formato snap che offrirà una minore compressione ma al contempo richiederà una minore potenza di elaborazione per completare l'operazione di decompressione quindi questo si traduce con un avvio molto più veloce su marcos box trovate un articolo che illustra tutto questo processo spiega il perché di questo cambiamento e vi fa vedere con alcuni test che sono stati effettuati ultimi di canonical quali sono le differenze in termini di velocità è interessante da approfondire mentre sto registrando questa puntata il 31 ottobre sono le 10 di sera e il mese di ottobre è finito e che cosa succede ogni qualvolta finisce un mese ebbene come da tradizione ogni mese che termina vede l'arrivo di un post da parte di Clemente Lefebvre sulle novità dal mondo di Gnuch Smith Clemente Lefebvre è il padrone ufficiale di Linux Minte il suo dittatore benevole sviluppatore vita qual è la novità e le novità annunciate questa con questo post la prima riguarda Chromium il browser web che è adesso è finalmente disponibile nei ripositori ufficiali sia di Linux Minte che di Linux Mint Debian Edition è già presente anche nella versione 20 di Linux Minte quindi se volete installarlo potete farlo direttamente dai ripositori perché non c'era non c'era perché sapete bene che cosa è successo è successo che il team di Linux Minte ha litigato diciamo così con gli snap e ha deciso a partire dalla versione 20 di non fornire Chromium perché il pacchetto Chromium presente nei ripositori di Ubuntu altro non è che un bypass che serve voi installate Chromium da apt ma in realtà quello va a installare la versione snap di Chromium cioè il snap è odiato dal team di Linux Minte da qui la decisione del team di Linux Minte di metterci una pezza e è arrivata finalmente la notizia l'ufficializzazione che Chromium è presente adesso nei ripositori della distro per poter garantire degli aggiornamenti tempestivi team di Linux Minte ha anche automatizzato il processo di creazione delle compilazioni delle nuove release e gli ha dedicato anche ci ha fatto sapere che ci ha dedicato anche un nuovo server molto prestante che riesce a compilare tutto in poco più di un'ora a differenza delle 6 ore classiche quindi ci stanno investendo anche in termini di risorse sebbene Chromium fosse presente anche nei ripositori di Debian gli sviluppatori hanno notato che gli aggiornamenti all'interno di Debian erano molto lenti e quindi è stata presa la decisione di compilarlo anche per Linux Minte Debian Edition lo scorso mese il team di Linux Minte aveva accennato la possibilità di sviluppare un lettore IPTV il feedback da parte della community è stato ampio è stato caloroso e quindi il team di Linux Minte ha deciso di mettersi a lavoro e ha costruito un primo prototipo di applicazione e l'ha chiamato IPNOTX potete scaricare IPNOTX dall'apposito link che trovate su Marcosbox nel pacchetto in formato DEB è una release alfa senza traduzioni senza interfaccia utente quindi per personalizzare le opzioni funzionalità ridotte però devo dire che funziona viene configurato con un provider di contenuti gratuiti quindi con una serie di IPTV gratuite che tipo RaiNews e quant'altro per l'Italia ed è fatto in modo che possa essere utilizzato e testato per vedere se funziona da una più ampia fetta di utenti possibili dicevo ImplotX non ha preferenze nella sua interfaccia utente però possiamo configurare una riga di comando e trovate su Marcosbox le istruzioni su come aggiungergli l'indirizzo M3U e in modo tale da aggiungere quello personalizzato l'altra novità della prossima versione di Linux Mint riguarda i preferiti il team di Linux Mint ha deciso di introdurre migliorie nel quanto riguarda la gestione dei preferiti delle cartelle dei file e di quant'altro e potremo accedere ai preferiti i nostri file e cartelle preferiti direttamente dal file manager dalla finestra di dialogo per la selezione dei file oppure anche direttamente dalle applicazioni con cui vogliamo aprirlo per esempio se noi lanciamo editor di testi avremo la nuova sezione preferiti dove è possibile trovare i nostri preferiti per esempio i file X che vogliamo andare a modificare e quant'altro praticamente preferiti che sono stati messi praticamente ovunque all'interno del desktop environment e delle applicazioni ci saranno anche in Cinnamon ci sarà un nuovo applet preferiti che gestirà appunto i preferiti e non so gli piacciono i preferiti a quelli di Linux Mint infine l'ultima novità presentata da QMLFab nel suo post-menzi che riguarda Cinnamon e la decisione di passare da CJS a MOSJS questo è stato richiesto da altre distribuzioni rende Cinnamon più facile da mantenere al di fuori di Linux Mint inoltre in tutte le distribuzioni conti compresa Linux Mint l'adozione di MOSJS consentirà di avere prestazioni leggermente migliori in particolare durante la fase di avvio ultima notizia della settimana riguarda l'aggiornamento della Linux Distribution Timeline Fabio Lowry che è l'attuale manutentore ha aggiornato la famosa infografica che cataloga l'origine, la data di nascita e in alcuni casi anche la data di morte di ogni distribuzione Linux fino ad oggi creata il suo progetto va avanti da tanti anni lui ha trovato il manutentore e questa nuova versione giunge dopo quasi un anno e mezzo dal precedente rilascio va a aggiornare le varie distribuzioni che sono state rilasciate nel frattempo va a correggere qualcosa qua e là ed è un progetto che a mio avviso merita l'attenzione di tutti quanti i sostenitori del software libero penso così perché è un'ottima risorsa per conoscere meglio la nostra storia come si dice a Foggia, a Rood da Dovin che ho detto poi andatevi a cercare nel dizionario Foggiano italiano che cosa significa è bellissima, andatela a vedere, è stupenda è una delle cose che ogni volta che la guardo poi mi perdo a vedere tutti i rami a vedere tutti quanti le distribuzioni, ah ma quello derivo da quel gatto, ma quello così è stupenda bene, con questa ultima notizia ho concluso si chiude qui questa ultima puntata del mese di ottobre del podcast di Marcosbox ci riascoltiamo la prossima settimana con una prossima puntata del podcast di Marcosbox lunga vita e prosperità a tutti quanti state in gamba, non uscite tanto mettete la mascherina e niente, ce la faremo al prossima a a a Grazie.